Doveva proprio essere così che quanto rende l'uomo beato divenga poi la fonte della sua infelicità. Il pieno, caldo sentimento con cui il mio cuore si rivolgeva alla natura vivente, quel sentimento che mi inondava di una gioia così grande, che faceva del mondo intorno a me un paradiso, si è mutato ora in un insopportabile aguzzino, in uno spirito persecutore che mi dà la caccia dappertutto. Bentornati alle monografie. Non potevamo che ricominciare questa rubrica, tanto amata e tanto attesa, con Johann Wolfgang Goethe, come sempre dopo la sigla. L'apocalisse zombie non è un pranzo di gala e si combatte un dei ricongitori alla volta. Se mi si chiede se appartenga o no alla mia natura esprimere di fronte a Cristo rispetto e adorazione, io rispondo assolutamente. Mi inchino davanti a Lui come alla rivelazione divina del più alto principio della moralità. Ma se mi si domanda se sia nella mia natura venerare il sole, rispondo anche certamente. In esso adoro la luce e la forza procreatrice di Dio. Se qualcuno poi mi domanda se io sarei disposto a inchinarmi davanti all'osso del pollice dell'apostolo Pietro Paolo, rispondo risparmiatemi e lasciatemi in pace con codeste assurdità. Con questa ironia, questa originalità, con queste parole così potenti, vorrei presentarvi l'autore di cui parliamo questa sera, in questa monografica, ovvero Goethe, che è un autore importantissimo, autore ovviamente del Faust, autore però che va affiancato ai grandissimi intellettuali, filosofi, musicisti, artisti della storia europea, accanto a Dante, accanto a Mozart, Beethoven, accanto a Omero, a Shakespeare, c'è Goethe, che molto spesso noi in qualche modo dimentichiamo perché mi sembra che la ricezione di questa opera, della sua opera, di questo autore in Italia, sia minore rispetto alla Germania, ovviamente dove è comunque considerato il più grande autore dell'epoca illuministica romantica e un po' anche nel resto d'Europa. Ma è un autore molto molto importante. Si tratta, in fin dei conti, dell'ultimo vero intellettuale universale. Quando intendo con universale quel tipo di pensatore che si occupa di poesia, di musica, di scienza, ovviamente dal punto di vista di un non specialista, di filosofia, di letteratura, di teatro, di tantissime cose, e se ne occupa in modo autenticamente curioso. Quindi, ben lungi dall'essere un personaggio che finisce per essere derubricato a una sola arte, a un solo linguaggio, Goethe riesce a toccarne tanti, con ogni sua opera. E infatti le sue, i suoi libri, le sue opere teatrali, sono un florileggio di curiosità, perché, in fin dei conti, Goethe era un curioso patologico che ha avuto un'influenza incredibile. In fin dei conti potremmo dire che Goethe fu l'uomo giusto al momento giusto. In fin dei conti, infatti, il suo pensiero va a infilarsi in quel momento storico in cui l'Europa viveva la maturazione dell'illuminismo, che poi portò ovviamente anche alla rivoluzione francese, di cui Goethe, come vedremo, sarà un forte, radicale, critico, e poi la nascita del movimento romantico, che molto spesso vengono raccontate a scuola come due antitesi. Ok, l'illuminismo prima, la ragione, la forza del cervello, del calcolo, e poi il romanticismo, il sentimento, lo sturm und drang. Ecco, Goethe è la palese contrapposizione, l'antitesi proprio a questa visione, che invece è una visione diversa. L'illuminismo ha partorito il romanticismo, e nel romanticismo troviamo tantissimi elementi dell'illuminismo, e fare questa caricatura, che scolasticamente spesso viene divulgata in modo superficiale, è erroneo. Goethe è un maturo illuminista che usa i linguaggi del romanticismo, ed è molto interessante il modo in cui lo fa, e il suo pensiero si infila proprio in quel maelstrom culturale che ha prodotto poi così tante cose interessanti. Lui infatti incarna gli ideali romantici, non soltanto dal punto di vista concettuale, ma proprio delle storie che racconta, le affinità elettive di cui parleremo, parleremo dei dolori del giovane Werther, parleremo ovviamente del Faust, i temi sono quelli del romanticismo, dell'amore, del sentimento, della relazione fra sentimento e comunità, dell'indole soggettiva con la legge e la regola della collettività, però dall'altra parte li critica fortemente, perché lui non è Byron, non è neanche, mi verrebbe da dire, l'autore delle lettere di Jacopo Ortiz, Foscolo, che prese moltissimo da Goethe, soprattutto dal giovane Werther, però in realtà Foscolo è molto distante da Goethe, non soltanto stilisticamente, ma anche perché Foscolo invece è un frutto maturo proprio di quel romanticismo, laddove Goethe non è solo questo, però questo lo porta ad essere l'uomo giusto al momento giusto, è l'emblema, l'incarnazione di uno spirito europeo che in quei decenni produce queste opere importanti. La cosa che mi interessa veramente di Goethe è che, dalle sue parole, lui ha scritto le sue opere per salvare se stesso. Ecco, vedete, questo è un aspetto che spesso noi dimentichiamo, del fatto che i grandi autori non scrivono le loro opere per insegnare alla plebe come si pensa, come si vive, come si guardano le cose, scrivono le loro opere per salvare loro stessi. E dentro le opere di Goethe si trova la biografia di Goethe, si trovano i suoi dubbi, le sue difficoltà e si trova la sua maturazione intellettuale. Ora, come sapete, durante la monografia non spenderemo troppe parole per la biografia di Goethe. Però sicuramente qualcosa verrà fuori perché dalle sue opere emerge l'uomo, in quanto l'uomo ha scritto le opere per affrontare i propri problemi. Ricordiamocelo questo perché ci permette anche di leggere queste opere non come a monoliti che sono lì perché qualcuno di saggio voleva insegnarci la vita, ma come cassette degli attrezzi che possiamo usare perché così come lui ha scritto queste opere per migliorare la sua vita, noi potremmo prendere quegli attrezzi e migliorare anche la nostra. Come dicevo, insomma, insieme a Dante, insieme a Mozart, Omero, Shakespeare, Goethe va annoverato fra i grandi pensatori della tradizione occidentale. Le sue opere vengono studiate all'università, insomma, quindi è un autore importante, la sua opera più importante, il Faust, è un'opera teatrale che però in realtà io non ho mai visto a teatro, anche perché dicono che la messa in scena totale del Faust dura 13 ore e neanche Goethe l'ha mai vista completamente. Ecco, io amo il teatro ma non posso guardare un'opera di 13 ore, però me la son letta sempre molto volentieri perché è un'opera molto leggibile, peraltro un'opera che come vedremo è molto ironica, come tutta l'opera di Goethe. Quali sono i temi che impregnano gli scritti di questo autore? Primo su tutti, la ricerca della verità. Lui è veramente un uomo ossessionato dalla ricerca della verità, laddove con verità intende non la verità fattuale ma la verità che sta dietro le cose. Goethe ha anche questo spirito, è un antico, è un pressocratico, ovvero qualcuno che ricerca la verità dietro le rappresentazioni del mondo, però usando gli strumenti del mondo. Io adoro questi autori che sono figli del loro tempo. Goethe è un figlio del suo tempo, ha interpretato, ha lavorato nella politica, ha usato i suoi mezzi, era appassionato del mondo che lo circondava, non era inattuale, eppure la sua ricerca è ricalcata sulla ricerca filosofica degli Eraclito, dei Socrate, ed è molto interessante questo. Quindi la ricerca della verità. Un altro tema importante è la trappola dell'amore e del sentimento. Ecco, uno dei punti veramente importanti che andremo a trattare è come l'essere umano si relaziona all'amore e perché l'amore è una cosa così complicata. La libertà individuale in contrasto con la legge e la regola della comunità e quindi i compromessi. Il valore della scienza. Come dicevo, Goethe è stato un uomo interessatissimo alla scienza, all'ottica, alla botanica, poi insomma andremo a citare, e amante della chiarezza. In effetti le cose che scrive sono molto chiare, anche se il Faust è un'opera in versi, però è un'opera molto molto chiara, ben scritta. Poi il tema della moralità e della tentazione, quindi come si riesce a connettere la ricerca del piacere che ci tenta con il comportarsi in modo decente. È impregnato di etica l'opera di Goethe. E quindi è un autore romantico, dall'illuminismo maturo, ma è un illuminista deluso che guarda con criticità e satira al romanticismo. Ed è un unicum in questo genere, perché poi in realtà veramente tanti autori sono molto più spostati sull'illuminismo e ancora non hanno capito o visto il romanticismo. Tanti sono già romantici, ma non si portano dietro il bagaglio dell'illuminismo. Goethe invece è proprio l'autore nella tensione che pervade l'Europa in quell'epoca. La tensione che vede fallire, vede nascere il fallimento della rivoluzione francese, infatti il napoleonismo che poi porterà alle nazioni, alle crisi dell'Ottocento, alle rivoluzioni dell'Ottocento. E in effetti non è un caso che Napoleone fosse un grande lettore di Goethe e che abbia avuto anche un leggendario incontro in cui discussero proprio di uno dei romanzi preferiti di Napoleone, cioè I dolori del giovane Werther. Ma insomma, prima di anticipare tutti questi temi, io vi do il benvenuto. Ciao ragazzi, bentornati. C'è qua anche Fede ovviamente che con noi andrà a leggere e raccogliere le domande. Sono mancate le monografie. L'ultima è di un paio di mesi fa, perché ovviamente con quello che è successo a marzo e aprile con l'Academy e tutto quanto è stato assolutamente impossibile anche metterci un po' di energia e tempo per preparare bene una monografia, però stasera siamo qua e da oggi in poi le monografie tornano. Se non è una volta a settimana, comunque almeno due o tre volte al mese ci sono o monografiche o special cogito. Sto preparando le tre monografie sui tre libri della commedia di Dante. Quindi insomma, fra qualche settimana faremo questo trittico di opere straordinarie e io le sto preparando con grande grande passione e attenzione, non vedo l'ora. Poi vi darò ovviamente le date a tempo debito. Come sempre il consiglio è di seguire l'Acogito Letter, perché lì è il luogo dove non potete perdervi veramente gli appuntamenti dal vivo, quelli in live, perché ogni giorno comunque vi dico ragazzi, succederanno queste cose nelle prossime ore, nei prossimi giorni, quindi iscrivetevi, è gratuita ed è bella. Già 16.000 persone fanno parte della famiglia della Cogito Letter e l'apprezzano ogni giorno, quindi insomma fate sto click, non vi costa nulla e non ve ne pentirete. Accanto a questo voglio anche dirvi che maggio è comunque un mese dai tanti eventi dal vivo, per esempio nel weekend del 10, 11, 12 io sarò al Salone del Libro a Torino con un firma copie allo stand Feltrinelli domenica 12 alle ore 11 e lì potrete venire con il libro, chiacchieriamo, ci scambiamo qualche opinione e sarò lì per un'oretta circa per firmare le copie e quindi insomma assegnatevi gli appuntamenti, ma andate anche sul nostro sito dailycogito.com alla sezione eventi per conoscere tutte le date future, mi raccomando. Opere consigliate, partiamo ovviamente da questo, quali sono le opere che consigliamo di Goethe? Ovviamente la prima che andiamo anche a trattare fra poco è il Faust, il Faust è l'opera magna di Goethe, ci ha messo 60 anni a scriverla, è fondamentalmente scritta in tre parti, la parte veramente veramente importante, corposa è la seconda, la prima invece è anche quella più forse famosa e la terza parte è quella spesso non raccontata, spesso un po' derubricata, messa da parte, però è un'opera importantissima, è un'opera che non si legge in un weekend, ok? Quindi un'opera che porta via tempo, ci vogliono energia, vabbè questa non abbiate troppa paura, comunque è quella l'edizione con il testo a fronte, testo tedesco a fronte, quindi insomma è la metà di questo, sono circa 400 pagine scritte in versi, però un'opera molto molto bella in cui bisogna prendersi del tempo per leggerla, la si legge, la si metabolizza, si rilegge e poi alla fine farà i suoi effetti. L'altro grande libro di Goethe è I dolori del giovane Werther che andremo a trattare questa sera, poi c'è le affinità elettive, l'apprendistato di Willemmeister e queste sono le opere direi che sono proprio quelle principali, poi lui ha scritto anche tanti saggi, ci sono tanti libri di Goethe, però sono questi quelli da cui io partirei sinceramente, come sempre li metto in descrizione con qualche consiglio. Adesso direi di partire subito con il nostro primo capitolo, come sempre le monografie sono divise in capitoli, fra un capitolo e l'altro noi ci prendiamo qualche tempo per rispondere alle domande e poi vi ricordo che lo scopo delle live monografiche è quello di farvi leggere le opere, perché il mio verbo rimane cosa scarsa se poi non andate veramente ad affrontare le opere, quindi mi raccomando non siate pigri, se qualcosa che dirò e racconterò vi suscita interesse o ammirazione non abbiate paura, i libri non vi fanno del male, andate e leggeteli. E direi che possiamo iniziare con il primo capitolo dal titolo Il Faust tormentato. Iniziamo come sempre con una piccola breve lettura. Perciò, allegro, basta coi pensieri e via con me a tuffarti nel mondo. Chi filosofa, te lo dico io, è come un animale che un folletto malvagio faccia girare in tondo su un campo disseccato, mentre intorno bei pascoli verdeggiano. Ovviamente queste sono parole di Mephistofele. Mephistofele è un personaggio che io ho sempre amato, un po' perché su YouTube tanti mi dicono che sono mefistofelico, anche se ha un carattere diverso da Mephistofele, però sicuramente l'ironia e il sarcasmo lo condividiamo abbastanza. Mephistofele è un demone. È un demone che appare di fronte alla figura cinica, materialista, curiosa, alla ricerca della verità di Faust e comincia a sussurrargli all'orecchio delle cose. Ovviamente conoscete benissimo le rappresentazioni, ci sono anche dei film riguardanti Faust e Mephistofele. Mephistofele è quello che sta lì a sussurrare con la barba caprina, sussurra all'orecchio del povero Faust delle cose, diciamo, poco consigliabili e cerca di deviare, un po' come un demone maligno, la mente di Faust. Ora, io devo dire che il Faust, che è un'opera capitale, veramente capitale, che ovviamente ha dato anche un po' via a tutta quella tradizione mefistofelica, in cui dei personaggi vengono manipolati da demoni, voglio dire il grande archetipo della persona ricca, famosa, importante, intelligente, che vende l'anima al diavolo per diventare immortale, famoso, onnipotente, un po' nasce qui, ok? È un po' il Faust che dà via a questa tradizione, che poi porta a tantissimi film, opere letterarie di ogni genere. Quindi è anche un'opera che dà via a una tradizione importante. Quando penso al Faust, a me viene un po' in mente Kierkegaard. Infatti, ecco, qui io vorrei dire subito una cosa. Goethe, dal mio punto di vista, ha il merito enorme di aver anticipato tantissimi dei temi dell'esistenzialismo. Certamente è un tardo illuminista che già strizza l'occhiolino al romanticismo, pur, come diciamo, in modo critico, ma dal mio punto di vista i grandi temi che muove nel Faust, e non solo, sono i temi che poi diventeranno cari all'esistenzialismo. Quindi Kierkegaard, quindi tutto il movimento francese dei Albert Camus, di Sartre, che torneremo a trattare nei prossimi mesi con delle nuove monografiche. Ecco, è un po' quello. Perché, ed è questo, secondo me, uno dei temi fondamentali che si sente in ogni momento nelle pagine di Goethe è l'angoscia derivante dal fatto che l'essere umano è una creatura presa in una tensione inestricabile, irrisolvibile, fra il finito e l'infinito. La lettura che io ho fatto all'inizio, io vi rileggo quella con cui abbiamo aperto la monografia, ok? Che è tratto dai dolori del giovane Werther? Doveva essere proprio così che quanto rende l'uomo beato, divenga poi fonte della sua infelicità, beatitudine e infelicità. Il pieno, caldo sentimento con cui il mio cuore si rivolgeva alla natura vivente, quel sentimento che mi neondava di una gioia così grande, che faceva del mondo intorno a me un paradiso, tutto il lato positivo, l'infinito, il paradiso, la gioia, la bellezza, il calore, si è mutato ora in un insopportabile aguzzino, uno spirito persecutore che mi dà la caccia dappertutto e quindi qui c'è l'inferno, il dolore, la sofferenza, l'aguzzino e via dicendo. Questa tensione in Goethe c'è ovunque e non può non venire in mente Kierkegaard quando nella Malattia Mortale, grandissima opera, scrive che l'essere umano ha il problema, che ha anche la sua grande forza, di essere sempre la creatura presa nella tensione fra finito e infinito, fra il fatto di essere un corpo mortale che decadrà, che invecchierà, che a un certo punto si decomporrà e via dicendo, che soffre e si ammale e un'anima che tende all'infinito, all'eterno, al divino, al paradiso e tutto quanto. In questa tensione l'angoscia esistenziale, che è tema fondamentale dell'esistenzialismo, è in Goethe e c'è continuamente. In ogni sua opera, Faust stesso. Faust è uno studioso, un curioso, un erudito che si occupa di magia, di alchimia, si occupa di filosofia, eppure come vedremo ha delle mancanze in tutto questo, ed è preso da questa continua dicotomia fra la tensione verso l'infinito, la tensione verso il paradiso, l'eternità, e invece quello che è materialmente parte del mondo. Ed è importantissimo comprendere questo, perché è la caratteristica fondamentale dell'angoscia che ogni personaggio di Goethe porta con sé. Perciò Faust è questo personaggio in una tensione infinita. E chi è Faust? Ora, di nuovo, a me, sapete, non piace stare troppo sulla trama dei libri, perché i libri è meglio leggerseli, la trama è sempre la cosa che è più banale da spiegare. Perciò cerchiamo di entrare subito in qualche similitudine interessante. Quando leggo il Faust, io mi trovo di fronte a una figura epica, titanica, che ovviamente, a causa delle sue mancanze, cade vittima di Mephistofele e del mondo circostante, e a me ricorda Giobbe nella Bibbia. Ma è un Giobbe privo di fede. Perché dico questo? Perché per chi non avesse letto Giobbe, Giobbe nella Bibbia vive questa vicenda terribile in cui lui è un essere umano di altissimo livello, che ha grandi fortune, grandi ricchezze, ha tantissime terre, ville, persone che lo amano, greggi, armenti, mandrie, ed è anche un uomo di grande fede. Quindi non manca ogni giorno di ringraziare Dio per queste fortune. È un uomo devoto. A un certo punto Satana va un po' come Mephistofele, ma non da Faust, va da Dio, gli dice, sai Dio, ma hai visto lì sto Giobbe? Giobbe è veramente figo. E Dio dice, sì, Giobbe è figo, è forse un po' più figo di te. E quindi Dio la prende un po' storta questa cosa, dice, ma sai che c'hai ragione, che poi Dio ti aspetti che abbia un po' più di resistenza ai suggerimenti di Satana, invece di fare, sai che ha un po' ragione, e quindi manda giù un sacco di sfiga a Giobbe. Giobbe finisce con le pestilenze, finisce con le case bruciate, le greggi disperse, gli schiavi che scappano, i mogli, i mariti, tutti uccisi, morti, scappati, i figli se ne vanno. Insomma, un macello incredibile. Si becca anche lui stesso, malattie, diventa inabile. Insomma, un casino. Ecco, Faust è esattamente come Giobbe, viene messo alla prova, si trova in questo tentativo, in questo tentativo titanico di accappararsi la verità del mondo, ma a differenza di Giobbe non ha la fede. Non ha la fede perché Giobbe, nonostante viva quello che ha vissuto, continua a dire a tutti coloro che lui incontra, sì però io la fede ce l'ho. La fede non me la toglie nessuno. Certo poi Giobbe a un certo punto lotta con l'angelo, insomma è una vicenda abbastanza cruda, però non perde la fede. Ed è bene o male quello che lo salva. Ecco, Faust è un Giobbe che non ha fede. E non avendo quella devozione, non avendo quell'anelito al divino, finisce per essere vittima di Mephistofele. Questo è interessantissimo secondo me. Perché? Perché Goethe in questo critica proprio l'idea che sia la razionalità lo strumento che ci porta alla verità. E questa è la critica un po' all'illuminismo. Perché? L'illuminismo, che va a dividersi in varie fazioni che poi andiamo a discutere, però era un po' convinto che l'empirismo, la ragione, la ragione calcolante, potesse essere l'unica via verso la verità. E Faust rappresenta un po' questa idea. La conoscenza, quindi la manifestazione delle verità che si possono toccare con mano, mi porterà poi a conoscere la verità. E questo invece non avviene. Vi faccio una piccola lettura tanto per andare a contestualizzare. Faust parla e dice, insomma, tu chi sei? E Mephistofele parte di quella forza che vuole sempre il male e produce sempre il bene. Anche qua, attenzione, Mephistofele parla quasi sempre per enigmi, parla quasi sempre per indovinelli, parla in modo sibillino. Perché? Perché in fin dei conti è lì la verità. Ecco, vedete, anche qua Goethe è un antico. È un antico perché ogni verità non si concede alla ragione, in quanto la verità è sempre nascosta dietro un enigma paradossale. In questo ritroviamo una letteratura fondamentale e antica. L'abbiamo trattato nella prima videolezione della Cogito Academy. Il fatto che il sapere, la verità, viene rappresentata nell'antichità dal concetto del labirinto. Ecco, Mephistofele è un costruttore di labirinti, perché è la sua natura ed è dal labirinto che dice la verità. Quindi quello che lui dice è vero. La forza che vuole sempre il male e produce sempre il bene. Fausto ovviamente risponde, da uomo di ragione, dice, cosa vuol dire questo indovinello? E Mephistofele? Sono io, sono lo spirito che nega sempre e con ragione, perché tutto ciò che nasce è degno di perire. Perciò sarebbe meglio se non nascesse nulla. Insomma, tutto ciò che voi chiamate peccato, distruzione, in breve il male, è il mio specifico elemento. E Faust? Tu dici una parte e mi stai innanzi intero? Mephistofele. Ti dirò una modesta verità. Se l'uomo, microcosmo di follia, usa pensarsi come un tutto, io sono parte di quella parte che in principio era tutto, dalla tenebra che partorì la luce, la luce superba che adesso a madre notte contende lo spazio e il rango antico. Ma senza mai riuscirvi. Per quanto si cimenti, resta incollata ai corpi e prigioniera, dai corpi emana, rende belli i corpi e ogni corpo ne ostacola il cammino. Spero perciò che non ci vorrà molto e con i corpi perirà anche lei. Questo passo è meraviglioso perché è la costruzione di una scatola cinese di enigmi in cui sono tutte vere le cose che dice, ma sono vere perché bisogna andare a sviscerare quell'enigma che non è disponibile alla ragione. Perché tutta questa, di nuovo vedete le tensioni, ok? Cioè da un lato il bene, dall'altro il male, da un lato c'è il corpo che perisce, che è bene che perisca, e dall'altro l'anelito della luce, alla verità, alla vita. E poi Mephistofele ovviamente conclude il fatto che era meglio che nulla fosse nato. Questo pensiero nichilista che poi il Faust torna continuamente. E questo mostra a Faust quanto sia insufficiente tutta la sua conoscenza. Ecco, vedete, Mephistofele si approfitta del fatto che a Faust non interessa l'aldilà, ma solo il mondo di qua. È la grande debolezza di Faust. È la grande debolezza dei rivoluzionari francesi, come poi vedremo, perché il Faust è un'opera che critica proprio tutto ciò che avviene e si dipana dalla rivoluzione francese. Quel razionalismo, ovviamente la grande accusa è a Voltaire, la grande accusa è a quell'idea secondo cui ci sia un modo giusto di vedere il mondo. E quel modo giusto deve in qualche modo soggiogare l'irragionevole, il mistico. E qui vedete quella tensione di cui parlavo prima. Goethe non è uno di quegli autori che denuncia la ragione dicendo bisogna darsi al mistico, ma non è neanche uno di quegli romantici che dice bisogna darsi al sentimento e dimenticarsi la ragione. È letteralmente un pensatore dell'enigma e l'enigma è la via di mezzo. Come faccio a trovare il connubio perfetto fra la ragione e il sentimento? Fra il bene e il male, fra Faust e Mephistofele. E questo è, secondo me, il punto più interessante anche rivoluzionario, soprattutto per l'epoca in cui lui scrive questa cosa. Dopo aver tentato Faust con svariati metodi, con l'ubriachezza, con la festa, la mondanità e tutte cose che a Faust interessano fino a un certo punto, Mephistofele riesce a ordire, perché poi è in realtà una cosa che lui ordisce, l'amore fra Faust e Margherita. Greta. È una storia d'amore che avrà un tragico epilogo, ed è veramente tragico. Cioè nel senso lì, infatti il Faust è un'epica che ha le sfumature della tragedia. E il punto essenziale è che in quell'amore a Faust succede qualcosa. Faust in quell'amore si illude che possa esistere qualcosa senza fine. Cioè Faust viene tentato, ed è il motivo per cui lui vende l'anima a Mephistofele, è tentato di vivere l'attimo di eterna perfezione. Anche qua, di nuovo, la grande contraddizione. Faust, studioso, molto concreto, con i piedi per terra, insomma, uno che non sta lì alle bazzecole dell'aldilà e via dicendo. Infatti quando Mephistofele gli dice se vivrai l'attimo di perfezione io omitterò la tua anima, Faust fondamentalmente diceva, ma chi se ne frega dell'anima? Cioè a me non interessa la vita di là, mi interessa la vita di qua. Mi interessa vivere qua la verità, la perfezione, il momento di eterna perfezione. E quindi tentato da questo, ecco, mette quel tentativo di eterna perfezione nell'amore, che è palesemente una grande contraddizione. E anche qua si vede la tensione di quell'illuminismo che fallendo nella sua razionalizzazione totale del mondo cerca nel sentimento, ma in modo sbagliato, il proprio compimento. E ciò che Goethe cerca di dirci è fondamentalmente che quando la ragione fallisce, se non riesce a tornare le proprie radici, userà il sentimento per fare di se stessa qualcosa di ancora più sbagliato e storto. E io credo che la costruzione del Faust in questo sia veramente eccezionale. Quando leggo il Faust a me viene in mente il fatto che Goethe individua, dal mio punto di vista, una delle grandi aporie del pensiero europeo, filosofico e occidentale. Cioè l'idea che la perfezione sia un qualcosa che si può costruire tramite conoscenza e comprensione. Se vogliamo fare un esempio concreto di questo pensate soltanto alla filosofia di Spinoza. Spinoza che sapete io quanto amo Spinoza, vorrei fare l'amore con Spinoza se solo non fosse ormai incenerito da vari secoli. Però diciamo Spinoza nella sua dottrina esposta nell'etica e nelle sue opere fondamentalmente ci dice fra le righe che costruendo una comprensione attraverso la ragione io posso posso conoscere il tutto. Il panteismo di Spinoza ok? Io seguendo la mia ragione quindi conoscendo i fondamenti della mia ragione, la mia libertà interiore e le leggi della natura e usando la logica posso potenzialmente conoscere ogni cosa. E quindi la perfezione nella filosofia moderna è una cosa del mondo e la si costruisce attraverso comprensione. Tanta filosofia è andata in quella direzione e l'illuminismo da un certo punto di vista comporta esattamente questo. L'uso perfetto della logica della razionalità e il soggiogamento dell'irrazionalità ci permette di costruire un'immagine talmente lucida nel mondo da poter essere perfetta. Sto semplificando per far capire i principi fondamentali. Questo è in contrasto enorme con, faccio uno degli esempi che mi possono venire in mente, con il concetto di perfezione così come svolto e sviluppato nel buddismo zen giapponese, dove c'è il concetto di wabi-sabi. Che cos'è il wabi-sabi? Il wabi-sabi è l'idea non solo che l'imperfezione, l'incastro imperfetto sia sempre dominante nell'esperienza del mondo, ma che esista una perfezione che avviene non per conoscenza, non per razionalità, ma per incastro perfetto di alcuni elementi. Quella perfezione che infatti nel pensiero del wabi-sabi è connaturata a alcune immagini come la fioritura del fiore, il momento in cui il fiore sboccia. Cioè, per il pensiero giapponese io non posso raggiungere una perfetta conoscenza delle cose tramite incremento di conoscenze e razionalità, ma posso accogliere l'esperienza del mondo osservando quando nel mondo si manifesta un attimo di perfezione, il fiore che sboccia. Il momento in cui tanti elementi del mondo vanno a incastrarsi, creando quelle che potremmo chiamare un'intensificazione di significato che porta a una perfezione fugace, che subito passerà. Questo soltanto per dire che il pensiero occidentale ha sviluppato un'idea di perfezione che è comunque parziale e che è uno dei bersagli critici proprio di Goethe nel Faust. L'errore enorme, ciò di cui Mephistopheles si approfitta, è questa idea fondamentale di poter vivere la perfezione attraverso la conoscenza. Ma ovviamente Faust lo fa nella parte meno conoscibile dell'essere umano, cioè l'amore. Ed è il motivo per cui poi ci sarà il tragico epilogo della morte di Margherita. E dopo la morte di Margherita, che conclude la seconda parte del Faust, quest'ultimo tenta di ritrovare la verità in altri ambiti, nella società, nel potere, nella politica. E qui si vede un po' la biografia di Goethe. Goethe era stato un giovane innamorato che aveva vissuto delusioni d'amore e dopo aveva fatto il viaggio in Italia e dopo è diventato di fatto un politico, un burocrate. E insomma, sono tutte cose che... Infatti lui ci ha messo 60 anni per scrivere questo Faust perché ha accompagnato un po' la sua vicenda umana. Però anche in questi ambiti è sempre insoddisfatto. Non riesce mai a realizzarsi effettivamente. E quindi quella promessa, quella scommessa, quel patto che è stato stipulato con Mephistofele. Ovvero, se io ti farò vivere un attimo di perfezione, di momento, di gioia perfetta, avrò la tua anima, non si sviluppa mai. E qui vorrei spendere una riflessione di nuovo su quanto sia anticipatorio il Faust rispetto a tanti altri temi della letteratura successiva anche ai giorni nostri. Il Faust, a me sembra, che sia un po' la prima versione di Infinite Jest. Perché dico questo? Perché in realtà tutto il Faust e tutti i comportamenti del Faust sono un po' il tentativo di crearsi quelle condizioni di fuga da quell'angoscia che Faust vive. Perché Faust vive quell'angoscia. Perché manca di quella fede, la fede di Giobbe. Perché manca di quel sostrato che potremmo definire anche metafisico, quella devozione, che per Goethe è fondamentale, anche se poi lui vive in un certo modo, ma poi questo lo vediamo più tardi, e di cui Faust manca completamente. Perciò cosa può fare Faust? Faust può soltanto aggrapparsi al patto di Mephistofele, convinto di poter vivere quell'Infinite Jest, ovvero quel momento di felicità eterna, mondana, quel piacere, quella realizzazione che prescinde dalla cura dell'animo. Infatti lui l'anima, la venduta, ok? La venduta non ha cura dell'anima, Faust, che però in realtà non esiste. Ed è questo inseguimento di una felicità che è quella felicità effimera che la filosofia da sempre denuncia. Perciò il Faust è sempre alla ricerca di quel desiderio inappagato, ed è veramente la prima immagine di Infinite Jest, così come poi verrà dipanato in epoca contemporanea a David Foster Wallace. Sapete quanto io sono legato a quel libro, quanto quel concetto abbia fatto la differenza, e l'ho usato anche come concetto a sé stante nell'ultimo libro? Ecco, Faust, in fin dei conti, ci dice questo. Se tu non sei Giobbe, ovvero, se hai la sofferenza all'angoscia che vivi per le condizioni esterne o per la tua angoscia interiore, non fai corrispondere una devozione come quella di Giobbe, finisci come Faust, ad aggrapparti al patto distorto di un demone che ti convince di poter creare in questa vita la tua perfezione, che è l'Infinite Jest. Ed è il patto che facciamo tutti noi. Tutti noi, non avendo la devozione di Giobbe, colpiti dalle angosce del mondo, dalle nostre mancanze, finiamo per aggrapparci ai patti mefistofelici che continuamente ci vengono offerti. Che oggi sono i patti della tecnologia, sono i patti dell'Innovatismo, sono i patti dell'Infinite Jest, quindi dell'essere sempre intrattenuti. È un patto mefistofelico quello che viviamo noi. E questo Goethe lo ha visto prima di chiunque altro. E il modo in cui Faust vive la sua vicenda non è dissimile da quello che viviamo noi. Ci convinciamo che attraverso questo patto potremo, sacrificando la nostra anima, vivere quella perfezione. Pensiamo di poterlo fare nell'amore, con gli strumenti, nella società, con le proiezioni, ma poi in realtà non lo riusciamo a vivere veramente e finiamo frustrati. Ed è la continua apparente contraddizione tra il desiderio di infinito, che alla fine è quello che salverà Faust, e poi qui spendiamo due parole, e la condanna di quell'anelito, in cui Goethe ci dice guarda che devi stare con i piedi per terra. Eccolo anche qua, la contraddizione che Goethe vive e incarna perfettamente. Da un lato lui è consapevole che il desiderio di infinito, il desiderio di andare oltre le cose del mondo, della vita, il desiderio ideale, idealizzato, di una vita oltre la morte, di una vita oltre la materia, di una trama nascosta sotto le cose. È la cosa più umana che abbiamo e dall'altra parte Goethe condanna quel desiderio, perché dice attenzione però, se quel desiderio viene vissuto male diventa infinite gesto. Cos'è l'elemento che manca. Secondo me l'elemento che manca nel Faust è proprio quella devozione. La devozione che poi fa di Giobbe uno che riesce comunque a salvarsi. E infatti, poi posso anche dirlo in un finale che non mi convincerà mai del tutto, se non come uno slancio satirico, Faust riesce a salvarsi proprio perché, agli occhi di Dio, il suo slancio verso l'infinito, che viene a svilupparsi proprio sul finale, che è rappresentato molto dall'amore per Margherita e via dicendo, lo salva. Se io fossi Mephistofele mi incazzerei come una bestia perché mi sembrerebbe uno che ha barato effettivamente. Quindi in realtà non è Mephistofele a barare, ma è Dio a barare, facendo poi di Faust quello che vuole lui. Vabbè, questo è un altro discorso. Si tratta, capite bene, di una ferocissima critica non solo agli ideali delle rivoluzioni francese, quell'anelito verso l'infinito che però mancava di una visione umana solida e che poi ha portato infatti la rivoluzione a creare quel disastro che è stato anche il napoleonismo e tutto quanto. Ma è una critica fondamentale al bisogno di fuga dell'essere umano. Faust è esattamente come noi, quando vogliamo fuggire facendo i nostri piccoli patti mefistofelici. La rivoluzione francese è stato per Goethe un patto mefistofelico in cui si sono barattate delle cose per delle altre, magari anche giuste, però indirizzandosi nel modo sbagliato e creando poi quei disastri che sono accaduti. Potremmo dire, se volessimo andare a scavare un po' di più nell'ambito dell'illuminismo, che Goethe è un autore che da un lato rifiuta Voltaire, ovvero l'immagine di un illuminismo che si convince che ci sia un modo giusto e corretto di usare la ragione e che tutti gli altri in realtà sono sbagliati e vanno in qualche modo superati, e Russo. Russo che invece dall'altra parte è un illuminista convinto che certamente la ragione debba avere un ruolo fondamentale, ma che essa non può né soggiogare né tantomeno dimenticarsi le parti legate al sentimento, all'irrazionalità, al mistico e a quella devozione di Giobbe che poi è quello che permette a tante persone di salvarsi dai patti mefistofelici. E quindi sicuramente Goethe simpatizza molto più per Russo all'interno dell'illuminismo, e infatti poi Russo, la visione russeiana, sarà un po' quella da cui nasceranno tantissimi concetti cari poi al romanticismo, capito? Goethe è figlio proprio di questo passaggio fondamentale, direi che è l'incarnazione letteraria e artistica più fondamentale di questo passaggio in Europa. Peraltro, come dicevo, è un'opera piena di ironia e satira, il Faust, che è forse l'elemento anche qui, uno degli elementi più interessanti. Verso il finale, a un certo punto, Faust, quando tutto sembra perduto, dice queste parole. All'attimo direi, sei così bello, fermati, gli evi non potranno cancellare l'orma dei miei giorni terreni. Presentendo una gioia tanto grande, io godo ora l'attimo supremo. Quando Faust dice queste parole, mefistofel dice, ce l'ho fatta, eccolo, io ho fatto vivere l'attimo supremo. Fraintendendo le parole della sua vittima e quindi, convinto di potergli prendere l'anima, in realtà poi le cose non vanno come pianificato da mefistofele. E anche qua è molto bello perché c'è una fortissima ironia nel modo in cui mefistofele vede svanire i suoi piani. Ed è un'opera piena di queste ironie, poi piena di satira nei confronti delle religioni, della politica, insomma, è un'opera che se letta nel modo giusto può anche divertire molto il Faust. Però secondo me è valetta con questi occhi, cioè è un'opera che parla veramente di noi, di aspetti della nostra vita che non sono passate negli ultimi 200 anni e che invece dobbiamo tornare ad affrontare in modo molto serio. E direi con questo arriviamo alla fine di questa prima parte e quindi passare un po' alle vostre domande. Ringraziando anche Fabio Corradi per l'abbonamento, Paolo Escription per gli abbonamenti regalo. Grazie mille ragazzi. Allora, sentiamo qualche domanda. Allora, partiamo da questa di arte che dice ho letto anche Gli anni di apprendistato di Meister, dove ci sono molti temi che citavi, però mi sembra molto diverso dagli altri, cioè è molto più pragmatico, meno ispirato forse dal romanticismo. Tu che cosa ne pensi? È anche un'opera un po' più tardiva, cioè nel senso è già l'opera matura di un Goethe che aveva degli altri obiettivi. Poi andremo a citare alcune parti di quel libro. È un libro che io sinceramente amo molto. Ovviamente è più maturo anche nella costruzione dei personaggi. È molto più maturo perché in realtà dal punto di vista della costruzione, se ci pensate bene, Gli anni di apprendistato di Wilhelm Meister è un'opera in cui il protagonista non è quasi mai al centro dell'attenzione. È un libro che è molto più rivolto a quello che fanno coloro che stanno intorno al protagonista. E questa costruzione anche lì formalmente è molto, non solo ispirata, ma è avanti di decenni. Cioè prima di rivedere un'opera così strutturata, passeranno decenni, quindi è un'opera non meno ispirata. È più matura, è più con i piedi per terra, però è un'opera di massimo valore anche quella. E poi c'è la voce d'argento che invece dice non posso avvicinare Mephistofele alla figura di Abraxas in Jung, che sono due entità ambigue che costringono a confrontarsi con i propri desideri, concorti con questa sorta di discendenza simbolica. Sni, perché in realtà Mephistofele, rispetto alla citazione che fai tu, è un'entità molto più, direi molto più intenzionale. Cioè nel senso, Abraxas è un'entità anche che è molto più legata alla caoticità, è molto più legata all'ombra. Ok, Jung la porta in quella direzione, quindi è molto più vicino. Ecco, Mephistofele non è l'inconscio. Quindi secondo me c'è un po' questa differenza. Poi senza entrare nel dettaglio ci sono dei punti di contatto, però sono anche molto molto diverse. E direi che andiamo avanti. Sì, dai, andiamo avanti. Andiamo avanti, andiamo avanti. Allora, prendiamo sempre la lettura. Il secondo capitolo si intitola I dolori del giovane Goethe. Ho fatto conoscenze di ogni specie, ma compagnia non ne ho trovata ancora. Non so cosa possa esservi in me, di tanto attraente per gli altri. A molti vado a genio e mi si affezionano. E allora mi era trista che le nostre strade procedano insieme solo per un breve tratto. Se mi domandi come sia qui la gente, devo risponderti come dappertutto. È una cosa monotona il genere umano. I più impiegano la maggior parte del tempo per vivere e quel poco di libertà che rimane loro li spaventa a tal punto da indurli a cercare tutti i mezzi per sbarazzarsene. Ah, la sorte dell'uomo. Con questa citazione, peraltro l'ho scelta perché mi sembra di sentire il Debrevitate Vite di Seneca quando dice le persone spasimano per vivere qualche giorno in più e in questo modo perdono il tempo di quegli stessi giorni. Vivono, aspetta, come fuggono il giorno aspettando la notte e la notte temendo l'alba che è una frase di una potenza incredibile. Però I dolori del giovane Werther è un libro che ha fatto grande scalpone nella sua epoca. È un libro della gioventù di Goethe. Lui lo scrisse dopo che aveva vissuto le prime delusioni d'amore, una in particolare che lo segnò molto e che fu quella che poi lo convinse a fare quel viaggio a Roma, di cui non andremo a spendere troppe parole perché sinceramente è stata un'esperienza importante però lo lasciamo da parte. Anche se c'è il libro Viaggio in Italia, lo so, però non è fra le letture secondo me più interessanti di Goethe. Dicevo, in questo libro lui fa molto scalpore per tanti motivi, soprattutto perché il libro che finisce con il proverbiale suicidio del giovane Werther, che si spara un colpo alla testa dopo che scopre che la sua amata non potrà mai veramente amarlo, a quanto pare fece suicidare tanti giovani. Cioè questo libro è un po' come i dischi di Marilyn Manson negli anni 2000, fanno fare alle persone cose terribili. Ovviamente non è così. Ovviamente l'arte spesso diventa motivo di emulazione quando l'opera d'arte interpreta in modo così forte uno spirito del tempo. E lo spirito del tempo in cui esce il giovane Werther è uno spirito di grande crisi, qualcuno direbbe crisi dei valori, uno stravolgimento del sentimento che l'essere umano ha di se stesso. Perché? Perché in realtà la fine del Settecento, direi un po' tutto il Settecento, ma soprattutto la fine del Settecento, è un'epoca in cui il sentimento comincia a prendere un'immagine totalmente diversa rispetto al passato. Perché? E secondo me questo è veramente il grande stravolgimento filosofico, psicologico dell'epoca illuministico-romantica. Prima di quell'epoca il sentimento era, come potrei dire, la parte grezza della coscienza umana. Se voi andate a leggere di nuovo, torniamo a Spinoza. Spinoza ha un'immagine molto geometrica della coscienza umana. C'è la ragione, la ragione, che è quella che calcola, pensa, pianifica, usa la logica, e ci sono le emozioni. Le emozioni, i sentimenti, non si contrappongono alla ragione. In Spinoza il sentimento è la parte più grezza, basilare, non lavorata, non raffinata della coscienza. Ovvero, se noi dovessimo figurarci, la mente umana, come una piramide, semplificando, alla vetta c'è la logica, la ragione, la razionalità che ci permette di affinare i pensieri, guardare il mondo per quello che è, studiare le scienze, comprendere le leggi della natura. Alla base ci sono i sentimenti, che non sono una cosa diversa rispetto alla ragione. Sono la stessa cosa molto, molto più basilare, primordiale, non raffinata. Peraltro, questa è un'immagine che le neuroscienze stanno riprendendo fortissimamente, ma vuoi un po' per la suddivisione mente-corpo, vuoi un po' per tanti fraintendimenti, anche filosofici, dell'illuminismo. In quell'epoca il sentimento prende un ruolo totalmente diverso. Quello è l'epoca in cui il sentimento diventa una sorta di elemento contrapposto alla ragione. È il motivo per cui una parte dell'illuminismo, quello di Voltaire, comincia a dire, sai cosa? La ragione deve sopprimere, superare, controllare il sentimento. Questa cosa qua non è da sottovalutare, perché cambia radicalmente l'immagine che le persone hanno di se stesse. Perché le persone non pensano più di poter, come era nell'epoca di Spinoza, lavorare sulle parti irrazionali per renderle più, per raffinarle, per migliorarle. Anche in Leibniz questo è molto forte. Tutti abbiamo i sentimenti. Il sentimento non è una cosa diversa dalla ragione, semplicemente una parte meno raffinata. Io devo lavorare con la cultura, l'esperienza, per affinarla e ascoltare e mendare il rumore e capire meglio cosa vuol dire pensare. Questo non avviene più. Il sentimento diventa qualcosa di cui vergognarsi. Il sentimento diventa qualcosa che contrasta con la ragione. Il sentimento mi impedisce a un certo punto di usare il cervello. Questo contrasto nasce in quell'epoca. E dal mio punto di vista, questo motivo di grande crisi del modo con cui l'essere umano, soprattutto in quell'epoca che è la giovinezza, quell'epoca in cui il sentimento è dirompente, gli ormoni esplodono e la nostra irrazionalità prende delle forme spesso anche incontrollabili, l'essere umano in quell'epoca si sente sbagliato. Il giovane Werther, ben lungi dall'aver causato quei suicidi, ha semplicemente portato a galla un disagio che serpeggiava in tutta Europa. Il disagio di esseri umani giovani che vivevano il sentimento come una malattia. Ed è questo il giovane Werther. Nel Werther, infatti, viene raccontata la conseguenza di quel mutamento in cui il sentimento diventa qualcosa di nemico da offuscare, da mettere da parte. E di nuovo torna il contrasto fra Voltaire e Rousseau. Voltaire, il più razionale degli illuministi, e Rousseau invece che diceva no, guardate che stiamo sbagliando. La conseguenza del vedere il sentimento come nemico della ragione porta a Voltaire, ovvero c'è un modo per far trionfare la ragione, c'è un modo per far trionfare il sentimento. Quello che trionfa è il sentimento, quello in cui il sentimento è un mondo che finisce per essere in guerra, devastato e via dicendo, il mondo in cui trionfa la ragione invece diventa il mondo pacificato e via dicendo, quello della pace perpetua. Rousseau invece dice no, c'è un modo di vivere la ragione preponderante rispetto al sentimento, ma ci sono tanti altri modi di vivere in cui magari il sentimento, l'emozione, il razionale ha un ruolo più forte rispetto a quella che noi chiamiamo ragione. Ora non siamo qua a discutere chi avesse ragione fra Voltaire e Rousseau. Io ho tanti motivi per essere dalla parte di Voltaire, tanti motivi per essere dalla parte di Rousseau. E magari ci faremo un video un giorno. Goethe è palese però da che parte sta. Il giovane Werther, la vicenda del giovane Werther, è proprio una vicenda russoiana, in cui ti viene detto, vecchio mio, se ti convinci che il sentimento sia qualcosa di nemico, finisci per farti male, finisci per perdere la tua esistenza. Viene definito questo il romanzo dello Sturm und Drang, che è un po' la formula con cui si racconta la genesi del romanticismo. Sturm und Drang, la tempesta, l'impeto, quindi questa cosa qua. Però poi devo dire che anche un po' di marketing questo diciamocelo. C'è nel senso Sturm und Drang, sì, vabbè, io trovo molto più Sturm und Drang in romanzi come il Dracula di Bram Stoker o tanti altri, però è sicuramente un romanzo che racconta la tempesta, l'impeto, la giovinezza spezzata, la confusione. E poi di nuovo, se volessimo tornare all'Infinity Jest, quella confusione che ogni essere umano ha vissuto in quell'epoca, solo che nell'epoca in cui Goethe scrive le sue opere, l'essere umano si convince che in qualche modo ci sia modo per sopperire a quella sofferenza, per scappare, fuggire. Il giovane Werther diventa dipendente, non soltanto dal pensiero della sua amata, ma anche da una serie di vicissitudini, da una serie di elementi che sono veramente dei divertissement, delle evasioni, delle anestesie, che però non risolvono mai quel mal d'animo che lui sente in relazione all'amore che prova per la sua amata, che non lo amerà mai. Ecco, certamente è il romanzo dello Sturmundrang, ma è anche il romanzo in cui si vede, e credo che sia la traccia più preziosa di questo libro, la confusione dell'autore stesso. Goethe lo scrive da giovane questo romanzo, ed è un romanzo che è completamente preso da quelle tensioni non risolte, che poi troveremo in modo più maturo nelle affinità elettive e anche ovviamente nel Faust. Dentro ci sono tanti elementi che fanno di Goethe un autore originale, per esempio l'idea del panteismo, peraltro panteismo che condivide con Spinoza, ovvero l'idea che la divinità, il divino, stia nella natura, motivo per cui lui è molto interessato allo studio della natura. Diciamo che Goethe forse è anche l'ultimo dei naturalisti, nel senso reale del termine, cioè quei filosofi, quei pensatori che osservavano la natura e dall'osservazione della natura traevano conclusioni. Da questo punto di vista Goethe è molto molto vicino a Darwin, per esempio, che è stato un altro grande naturalista. Ovviamente Darwin ha delle intuizioni molto più proficue dal punto di vista scientifico rispetto a Goethe, che a parte alcune intuizioni legate all'ottica, alla teoria dei colori e un po' alla botanica, non avrà mai veramente una grande voce a livello scientifico. Infatti qui piccola parentesi, Goethe faceva incazzare un sacco gli scienziati del suo tempo, i quali dicevano un poeta non può essere scienziato. Lui ci stava male perché era convinto che invece la poesia e la scienza condividessero il nucleo fondamentale della creatività, che è l'idea umana. Cioè tutto nasce dalle idee dell'uomo e le idee danno forma alla poesia e alla scienza. Da questo punto di vista lui è molto platonico, molto idealista. È dall'idea che abbiamo nella nostra anima che nascono i linguaggi diversi. Ovviamente per gli scienziati non era così. la scienza nasce dall'esperienza empirica che nulla ha a che vedere o che perlomeno non nasce dall'idea, mentre la poesia è una cosa ideale. Ovviamente sappiamo perfettamente, questo è un dibattito ancora aperto che non si è mai risolto, ma lo mettiamo da parte. Dicevo, nel Giovane Werther ci sono dei bellissimi passi in cui il protagonista ha queste intuizioni del fatto che la realizzazione di sé è nella capacità di seguire la propria natura. Però eccolo qua il punto. In un'epoca nichilista, dove Dio ormai non significa più nulla, la devozione di Giobbe ormai non c'è più, cosa vuol dire trovare la propria natura? A cosa mi appiglio? Di nuovo torna l'idea che sarà così forte nel Faust. Anche Faust è un personaggio come Werther convinto che la realizzazione di sé stia nell'assecondare la propria natura. Come dicevano gli antichi Marco Aurelio e Pitteto, io seguo la mia natura, capisco chi sono e quindi seguendo, assecondando le mie naturali tendenze, realizzo me stesso. Il problema è che se io vado a leggere Marco Aurelio e Pitteto mi trovo di fronte a uomini di fede comunque. Cioè loro avevano la fede in un'entità divina che era un po' il garante di quella realizzazione di sé. Quando mi pongo alla domanda qual è la mia natura significa dire io sono qualche cosa, significa io ho un'anima. Marco Aurelio e Pitteto e Seneca credevano nell'esistenza dell'anima, ovvero credevano in un'entità che bene o male non è transitoria e presa dalle casualità del mondo come lo è il corpo. Avendo fede e devozione in questo potevano presupporre che la ricerca della loro natura fosse una ricerca reale. Ma l'essere umano dell'epoca illuministico-romantica ha perso questa devozione. Faust non ce l'ha quella devozione, infatti di nuovo ricordatevelo non ha nessun problema a vendere l'anima a Mephistopheles, tanto per lui l'anima non è una roba importante. Ecco capite bene che per un uomo del genere realizzarsi in relazione alla propria natura è una cosa che non significa nulla ed è lo smarrimento. Anche qua ragazzi l'esistenzialismo è proprio in nuce qua. L'angoscia dell'esistenza che ormai è slegata dall'essenza, quello che dirà Sartre nel novecento, l'esistenza umana viene prima della sua essenza, ovvero la mia libertà di realizzarmi nel mondo è slegata da un'essenza, da un'anima, da qualcosa di permanente. Questo essere umano, come Faust, come Werther, quando si rende conto di dover seguire la propria natura, non sa come orientarsi e quindi finisce preda delle dipendenze, dei patti mefistofelici. Goethe è un contemporaneo da questo punto di vista, un autore che parla a noi, perché noi quella devozione non ce l'abbiamo. Ora di nuovo non voglio dire che allora bisogna tornare a Dio, assolutamente no, però bisogna rendersi conto che quel mutamento che porta anche il sentimento a diventare qualcosa di disumano, tutto quello che abbiamo detto, ci ha creato uno smarrimento devastante. E noi probabilmente siamo ancora dopo duecento anni lì, come Faust, come il giovane Werther, a cercare gli appigli, a cercare orientamento. E infatti siamo preda, come duecento anni fa, dell'Infinity Jest, che ha diverse forme ma poi si basa sullo stesso cosa. Noi oggi facciamo il patto con l'iPhone, con la macchina, con l'intelligenza artificiale. Ieri il patto lo si faceva come Fistofel, però il meccanismo è sempre quello. Perciò credo che sia interessante questo. Da un lato nel giovane Werther si vive l'impossibile pacificazione tra l'accettazione della società, ovvero l'accettazione delle regole, del compromesso, che ovviamente per un giovane come Werther è difficilissimo, e l'indole individuale, cioè il fatto di avere questi sentimenti. Di nuovo torna il discorso della spaccatura fra sentimento e ragione. Nell'illuminismo e nel pre-romanticismo c'è questo insanabile conflitto fra l'indole individuale, che è fatta di emozioni, sentimenti, slancio vitale, desiderio, realizzazione, ed è ovviamente la parte irrazionale del sentimento, e dall'altra parte la comunità che è fatta di regole, di leggi, di ragione, di rigidità, di consuetudini e di compromessi, di calcolo. I dolori del giovane Werther è il libro cardine in Goethe che racconta l'inconciliabilità di queste cose, e di nuovo, non è che il libro ha prodotto quell'inconciliabilità, è che il libro descrive una cosa che la gente già viveva, quindi la gente già si suicidava, già era disperata per questo scontro. Goethe semplicemente lo manifesta con un'opera straordinaria, che peraltro, veramente io ve lo consiglio, leggetelo, io poi, sapete, sono un po' critico nei confronti della letteratura italiana di quegli anni, però ecco, le lettere di Jacopo Ortis possiamo anche metterle da parte, e leggetevi il giovane Werther, che è un'opera di un altro livello, ora so che arriveranno ordini foscoliane a dirmi ma come ti permetti, però ragazzi, siamo su un altro livello da ogni punto di vista. E questa incapacità di mettere insieme sentimento e ragione, che si manifesta sia nelle spaccature sociali sia in quelle individuali, è ciò che poi porta al suicidio. Il suicidio di Werther, e in quell'epoca c'è una montagna di opere letterarie che raccontano il suicidio, e guarda caso quasi sempre di qualcuno di giovane, il suicidio diventa l'unica strada per far trionfare l'unico aspetto che un uomo come Faust, come Werther, può interpretare. Cioè l'autodeterminazione. L'unico modo per vivere è togliersi la vita. Ovviamente nel Werther questo ha a che fare soprattutto con l'amore. Le consuetudini sociali, politiche, economiche portano Werther a non poter vivere quell'amore che la sua indole individuale gli fa desiderare così tanto, e lo scontro fra l'indole individuale impossibilità da realizzarsi e le consuetudini e i compromessi della società lo portano a volersi autodeterminare togliendosi la vita, che è questo nuovo ulteriore paradosso con tutte le conseguenze che questo poi comporta. Credo che sia molto interessante anche perché poi c'è un ulteriore aspetto. Io quando leggo il giovane Werther, a me pare molto molto chiaro che Goethe nei confronti del suo protagonista è... non è critico però, però comunque è chiaro che l'amore di Werther è un'ossessione. Allora, di nuovo, non vorrei sovrainterpretare, però a me sembra che questo sia un legame forte anche con il Faust. Werther non fa un patto mefistofelico, ma vive le conseguenze di un patto mefistofelico, perché anche per lui quell'ossessione diventa un infinite gest. Il baloccarsi, lo struggersi, il vivere quei patemi, che però lo rendono immobile, incapacitato a vivere la sua vita, sono l'infinite gest. E quello struggimento lì è un tentativo di evasione, è un'anestesia. Perciò di nuovo torna il tema dello smarrimento. L'amore che Werther prova non è un amore sano, sincero, autentico. È un amore di autoconvincimento, di rigidità. E quindi di nuovo torna quell'idea lì. Cioè, un uomo sperduto non può seguire la propria natura. Werther si convince che amare la sua amata con quello slancio sia la sua natura, ma non è così. Perciò è un romanzo che peraltro è sorprendente che sia stato scritto in una così giovane età, però è un romanzo dalle mille sfaccettature, che parla di noi. Werther finisce tragicamente perché manca delle coordinate per accordare la sua indole, ovvero il suo sentimento, e la comunità, che invece è guidata da ragione e compromesso. Ma soprattutto non può capire qual è la bussola che lo guida. E sapete, in questo a me viene in mente un autore che amo molto, che è Joseph Campbell, che in un libro bellissimo, dal titolo Tat Vam Asin, ne ho parlato qualche tempo fa, che è Quello Sai Tu, interpreta ovviamente le mitologie. A un certo punto dice questa cosa. Dice, guardate che la mitologia ha una duplice funzione. Da un lato permette a colui che l'ascolta ed entra in contatto con la mitologia di capire come fatto lo spirito del suo tempo, cioè su quali basi si costituisce la sua comunità. E dall'altro accompagna l'individuo attraverso i diversi momenti della sua maturazione esistenziale, dall'infanzia all'età adulta, l'adolescenza all'età adulta, l'amore, il lavoro e la vecchiaia. Cioè la mitologia per Campbell, che è uno che conosceva molto a fondo Goethe, è quello strumento che l'umanità si è data per capire come funzionano i compromessi del tuo tempo e avere rispetto della tua indole individuale. Campbell in questo senso è un autore molto complementare a Goethe, solo che Goethe è la pars destruens. Goethe ti mostra cosa succede quando tu non riesci a mettere insieme questi due mondi. Campbell ti dice come mettere insieme questi due mondi. E guarda caso Campbell poi è convinto, e lo dice in vari libri, che il concetto di devozione, di fede, di religiosità, non nel senso cattolico della religione, ma della religiosità vissuta dall'individuo, come serie di storie mitologiche che ti connettono al mondo che ti circonda, quello è il modo con cui l'individuo riesce a stare nel suo tempo maturando individualmente, quindi scoprendo la propria indole. E in questo connubio, sentimento e ragione non sono più nemici separati, ma sono parte di una piramide che poi ci fa pensare con la nostra testa. Ok, perfetto. Torniamo alla chat. Ciao ragazzi. Peraltro veramente I dolori del giovane Werther è un libro bellissimo, molto più accessibile rispetto a Fausto, quindi leggetevelo ragazzi perché è un libro veramente importante. Sentiamo un po', sentiamo un po', c'è già gente che protesta in chat per Foscolo. Ragazzi, non volevo insultare Foscolo, dico solo che siamo su livelli diversi, ok? Siamo proprio su livelli diversi. Io peraltro le lettere di Jacoportis me le sono riletto qualche anno fa. Devo dire, c'è dei guizzi, ecco, però no, quando devo confrontarlo con Goethe non sta in piedi il confronto per quanto mi riguarda. Vai con le domande. Ciao Foscolo, sempre un grande... Ciao Foscolo, invitato ai Cogito Studios. Abbiamo erudito che ci fa una domanda, beh dai, buona sapersi, che dice da dove viene l'idea dei contemporanei di Goethe che le emozioni contrastino con la razionalità e che per questo quindi vanno eliminate. Mi ricordano delle riflessioni che ho trovato in alcuni autori anche stoici. Sono, cioè nel senso non c'è una ragione, è uno sviluppo molto complesso che possiamo individuare in tantissime concause culturali, peraltro molto complesse. Sono abbastanza convinto che sia una delle conseguenze del trionfo della filosofia cartesiana in tutte quelle che sono le scienze della natura. Se voi andate a guardare per esempio la separazione di mente e corpo che in cartesio ha un peso così fondamentale, ha delle influenze straordinarie per esempio nell'ambito dell'anatomia. Se non ci fossimo convinti per qualche secolo che la mente e il corpo sono due elementi separati, i primi anatomisti non avrebbero mai avuto la possibilità di studiare il corpo umano. Perché il corpo umano veniva studiato perché ci si era convinti che la mente non è nel corpo, ok? C'è tutta questa serie di elementi filosofici, culturali, scientifici di cui ci siamo convinti e che si sono anche sviluppati nell'idea che il sentimento è una cosa corporea, viscerale, infatti la pancia, l'intestino, mentre la comprensione, la ragione e la logica sia una cosa spirituale che sta solo nel cervello. Noi sappiamo che questa idea è sbagliata, perché in realtà logica e sentimento sono parte integrante di un corpo che funziona come macchina unitaria. Basta leggere insomma Antonio Damasio ed altri per capire come funziona questa cosa qua, ma bastava già Spinoza, che infatti critica fortissimamente Cartesio nelle sue opere. Però ecco, è il traguardo di secoli di idee e fra intendimenti che porta poi a questa separazione fra sentimento ed ragione. E ti dirò di più, noi oggi siamo ancora in gran parte convinti di questo. Cioè l'idea che il sentimento sia nemico della ragione, è ancora fortissimamente dominante nel nostro mondo e nelle nostre convinzioni e pregiudizi. Quindi è un'idea che sopravvive. E sopravviverà. C'è arte che ancora riguardo agli anni di apprendistato di Meister ti chiede, nei dolori di Meister, credo sempre, il protagonista è mandato all'estero per allontanarlo dall'amata. Non ha funzionato perché non viene accettato dalla comunità e ritorna quindi come condannato a seguire il suo sentimento. No, sta parlando di dolori di Giovane Werther, però non dell'apprendistato di Meister. L'ultima parte della domanda cos'è? Ti chiede perché non viene accettato dalla comunità e ritorna quindi come condannato a seguire il suo sentimento. Perché lui nel suo esilio non smette mai di essere ossessionato da quell'amore. Secondo me lì c'è la parte anche più critica di Goethe. Cioè è palese che quell'amore diventa quasi la scusa buona per non connettersi a una nuova comunità. Perché Werther è perseguitato da un demone e quel demone non lo abbandona perché lui si allontana. Gli manca proprio la capacità di maturare una consapevolezza intorno a quell'amore e quindi non se lo toglie mai. E questo è il motivo per cui non riesce poi a vivere... anche quando se ne va non riesce a vivere bene. Era la grande paura di Goethe quando se ne va in Italia quella. Cioè quando lui vive a Roma aveva il timore di portarsi dietro tutte le cose da cui cercava di scappare. Poi lui riesce invece a andare in un'altra direzione mentre Werther no. Il libro di Campbell è Quello sei tu. Tat Tvamasi che è una famosa citazione dal sanscrito. Tat Tvamasi significa Quello sei tu. Ed è l'idea che quando tu leggi una storia, una mitologia quel personaggio in realtà sei tu. Perché tu ti rivedi in quel personaggio. Motivo per cui la mitologia ha a che fare con te. Non ha a che fare con storie di fantasia. È un bellissimo libro. Beh in realtà tutto di Joseph Campbell. Leggete l'eroe dai mille volti. Devo farci anche su quello la monografia perché cavolo c'è un sacco di roba da dire. Madonna è pienissimo di roba. Ok. Ci siamo? Direi che ci siamo. O c'è qualcos'altro? No 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 ci siamo. All'unima parte. Siamo quasi arrivati alla fine. E quindi andiamo a concludere con un piccolo capitolo dal titolo L'individuo nel mondo. Iniziamo come sempre con una lettura. La lettura è tratta da I dolori del giovane Werther. In favore delle regole si possono dire molte cose pressappoco le stesse che si possono dire in lode della società borghese. Chi si forma su di esse non produrrà mai nulla di brutto o di volgare proprio come chi si lascia plasmare dalle leggi e dal decoro non diventerà mai un vicino insopportabile o un delinquente degno di nota. Ma al tempo stesso si dica quel che si vuole. Qualsiasi regola distruggerà il sentimento autentico della natura e l'autentica espressione di quest'ultima. Tu replicherai tutto ciò è eccessivo la regola non fa altro che porre limiti tagliare i tralci troppo rigogliosi eccetera. Mio caro amico posso spiegarmi con un paragone? È come per l'amore. Un giovane cuore ripone interamente il suo affetto in una fanciulla trascorre con lei tutte le ore del giorno prodiga tutte le sue energie e i suoi averi per dimostrarle in ogni momento di esserle totalmente devoto. Ed ecco arriva un filisteo un uomo che riveste una carica pubblica e gli dice Egregio signore amare è umano ma voi dovete amare umanamente. Suddividete le vostre ore assegnando le une al lavoro le altre al riposo e queste ultime dedicatele alla vostra ragazza. Calcolate l'ammontare del vostro patrimonio e ciò che vi avanza una volta soddisfatte le vostre necessità non vi vieterò certo di impiegarlo per farle un regalo. Solo non troppo spesso magari per il suo compleanno o per il suo onomastico eccetera eccetera eccetera. Se il giovane gli dà ascolto diverrà un uomo capace e io stesso consiglierei a qualsiasi principe di inserirlo in un collegio di funzionari ma per il suo amore è la fine e se egli è un artista è la fine per la sua arte. Amici miei perché il fiume del genio prorompe così di rado così di rado ribolle in alti flutti e scuote le vostre anime stupite? Cari amici sulle due sponde abitano signori tranquilli e i loro padiglioni da giardino i loro orticelli e i loro aiuole di tulipani ne sarebbero travolti perciò arginando e deviando essi hanno imparato a stornare il pericolo incombente. Questo è uno dei pezzi più belli di Goethe in generale ed è forse il mio pezzo preferito di tutto quanto il giovane Werther ed è un pezzo che fondamentalmente dice le regole hanno un senso e il senso delle regole è produrre individui decenti gestibili misurati ma se io seguo le regole tutta la mia passione tutta la mia individualità tutto il mio amore la mia arte vengono completamente distrutti è il pezzo emblematico che racconta la spaccatura di cui ho parlato per tutta questa live cioè la spaccatura fra l'indole individuale e la necessità di stare in una comunità di nuovo torna un motto che sarà degli esistenzialisti quando Sartre dirà l'inferno sono gli altri ovvero è infernale è la morte della beatitudine stare con gli altri perché quando devi stare con gli altri devi entrare in compromessi seguire le regole e via dicendo ovviamente se uno fosse un po' sprovveduto direbbe ma è palese che Goethe è critico della società borghese delle regole e in parte è vero a lui non piace la convenzione sociale non gli piace la società in cui vive però poi l'esempio della sua vita è palese che è andato in quella direzione cioè Goethe è stato proprio un essere umano che ha cercato di conservare la propria indole individuale la propria arte la poesia pur restando un essere umano decente all'interno dei contesti che non traccimasse danneggiando la vita degli altri e il giovane Werther è un punto critico nei confronti di quell'individuo che invece vorrebbe preservare la propria indole a discapito delle regole attenzione perché molto spesso Goethe il giovane Werther è un libro che viene preso fuori contesto e che dà adito a un sacco di cazzate tipo è un libro che alcuni definiscono uno dei libri che criticano il matrimonio la monogamia perché in realtà Werther vive l'ingiustizia di non poter amare lotte e quindi di suicidarsi e invece avrebbe dovuto poterla amare solo che lei era promessa sposa a quell'altro e quell'altro del filisteo che era cazzate in mani cazzate soltanto una persona che non abbia veramente letto questo libro con attenzione direbbe questo perché Werther non vive un amore sano non vive un innamoramento sano e mi sembra anche probabile potremmo dire che dal momento in cui Werther vive un patto mefistofelico vive un infinite gesto in questa ossessione anche se lotte si fosse concessa a lui non sarebbe mai andato bene quello di Werther è un è un'opaca immagine dell'amore che poi invece deve trovare la sua casa all'interno delle regole in questo mi viene in mente un romanzo che sembra molto distante da Goethe che è il romanzo di Mordecai Ricler la versione di Barney in questo romanzo a un certo punto c'è un discorso bellissimo che viene fatto da quella che diventa la moglie l'amata di Barney amore che poi verrà perso a causa di un tradimento e quando loro stanno per mettersi insieme lei non mi ricordo come si chiama comunque l'amata di Barney dice attenzione però ricordati che l'amore non è passione non è esplosione tutto senso no 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 l'amore è quotidianità e a noi quella quotidianità deve bastare Werther non può amare perché la sua immagine dell'amore è l'immagine dirompente dell'ormone adolescenziale è un'infatuazione completamente irrazionale lui è il prodotto della spaccatura fra sentimento e ragione non è dalla parte giusta Werther non è il buono che viene dilaniato dalla società cattiva vive una rottura esistenziale intrinseca lui non potrebbe mai amare lotte perché non potrebbe mai amare la quotidianità dell'amore il momento in cui il fuoco passionale viene meno non ha un'immagine matura sana dell'amore è un'ossessione è mefistofelico quell'amore e di nuovo questo parla a noi non parla agli uomini del settecento dell'ottocento ci mette di fronte a un monito e ci dice attenzione l'idea che l'amore dell'indole individuale passionale sia quello vero è una cazzata è una cazzata e perdonati ma in un'epoca dove le cazzate sull'amore se ne leggono in ogni dove dalla poliamorosità che adesso viene spacciata come la panacea di ogni male all'idea che l'amore libero il vero amore sia libero dalle consuetudini dei compromessi tutte queste cazzate sono soltanto di nuovo infinite gesta che viene sparato dimenticandosi delle vere lezioni della letteratura di Goethe o di altri l'amore è quotidianità l'amore vero è quello che resiste nel momento in cui la passionalità che non deve mai morire ma viene messa un po' in secondo piano dal tempo dall'invecchiamento dalle responsabilità dalle stanchezze dalle regole il giovane Werther è una lezione fondamentale per dei contemporanei stronzi come siamo noi quando parliamo male dell'amore perciò un'opera che va letta e la stessa cosa le affinità elettive e via dicendo questo è lo scopo della ricerca di Goethe Goethe è completamente alla ricerca di quegli elementi che permettano a un essere umano di trovare il connubio fra l'indole sentimentale individuale e le regole i compromessi di una società che poi ti mette inevitabilmente delle limitazioni ma non perché è cattiva perché ci sono gli altri a questo infatti si connette anche tutta la teoria dell'interesse per la scienza Goethe è uno molto interessato alla scienza come diciamo lui scrive alcune cose che peraltro sono state molto importanti sulla teoria dei colori studia il prisma come il prisma suddivide i colori perché questo succede cosa che sono state anche utilizzate e poi molto interessato di botanica devo dire che Goethe da un certo punto di vista mi ricorda un Galileo o un Leonardo cioè questi sono i personaggi che mi vengono in mente quindi uno che che tocca con mano poi ovviamente rispetto a Galileo molto più rivolto alla poesia e certe cose però molto vicino a Leonardo vi leggo vi leggo un piccolo pezzo che mi sono segnato questo è tratto dalle affinità elettive romanzo in cui peraltro devo dire esplode veramente l'interesse per la scienza per il dato empirico a un certo punto scrive Goethe le nature che incontrandosi si avvincono subito determinandosi reciprocamente si chiamano affini negli alcali e negli acidi i quali benché opposti e forse proprio perché opposti si cercano e si legano nel modo più deciso modificandosi e formando un corpo nuovo l'affinità è davvero sorprendente basta ricordare la calce che mostra per tutti gli acidi una vera simpatia una decisa tendenza a unirsi con essi è anche inventore di questo di questo genere proprio e che avrà grande fortuna il fatto di utilizzare metafore legate alla scienza alla chimica alla fisica per descrivere cose invece sentimentali di nuovo il tentativo di connettere l'empirico l'esperienziale con il sentimentale e l'individuale e questo si trova anche all'interno dell'altro romanzo che ho citato prima che è Gli anni di apprendistato di Willenmeister che è un romanzo più maturo molto interessante secondo me meno bello di altre opere però molto molto importante peraltro che anche qua una vera e propria invenzione dal mio punto di vista quello è il primo vero romanzo di formazione cioè il romanzo di formazione antelitteram non solo per la costruzione che dicevo prima cioè il primo romanzo mi sembra in cui il protagonista che dà anche titolo alla storia non è mai veramente colui che svolge le cose perché la storia è molto più legata a coloro che stanno intorno a Willenmeister ed è una costruzione molto originale ma anche perché poi l'evoluzione del personaggio ricalca molto da vicino quei romanzi di formazione che poi vedremo esplodere nel novecento anche in Italia con i vari Italo Svevo Pirandello e via dicendo anche qua vi ho preso una lettura scrive Goethe qui non si tratta di ciò che io credo né questo è il luogo per chiarire come io cerchi di rappresentarmi almeno in una certa misura cose che a noi tutti sono incomprensibili qui il problema è soltanto di stabilire quale concezione di carattere generale sia la migliore per noi la trama di questo mondo è fatta di necessità e di caso la ragione umana si pone fra i due e sa dominarli essa tratta la necessità come fondamento della sua esistenza sa dirigere guidare e utilizzare il caso e solo finché rimane ferma e incrollabile l'uomo merita di essere chiamato un dio della terra guai a chi si abitua fin da giovane a voler trovare nella necessità qualcosa di arbitrario ad attribuire al caso una sorta di razionalità obbedire alla quale sarebbe addirittura una religione si può definire un simile atteggiamento altrimenti che è un abdicare alla propria ragione e dar via libera alle proprie inclinazioni noi ci figuriamo di essere pi perché vagando di qua e di là senza riflettere ci lasciamo determinare da casi piacevoli per dare infine al risultato di una vita così vacillante il nome di volontà divina questo è un altro pezzo bellissimo in cui peraltro si vede proprio la denuncia a quel giovane Werther a quel Faust delle opere che aveva scritto in precedenza è una denuncia guarda che se tu fai come Werther se tu ti convinci in giovane età che le cose delle tue inclinazioni siano il reale punto della tua esistenza finisci male tutto Goethe è preso da questo è quasi un autore che ha cercato di mettere nella sua opera la sua stessa maturazione individuale e nel Faust questo si vede dipanarsi proprio nelle tre parti bellissime e quindi è un autore che parla di verità che fanno parte della nostra vita e credo che sia importante leggerlo con le opere che vi ho citato questa sera e spero che sia stata un approfondimento interessante adesso dedichiamo qualche tempo alle vostre domande se ci sono e poi andiamo a concludere la live ma le domande in realtà erano ancora quelle di prima quindi ci siamo va bene allora ragazzi io ringrazio anche Marco Zamper per l'abbonamento grazie io direi che ci siamo è stato bello condividere con voi qualche idea intorno a questo autore vi di nuovo esorto a leggerlo partendo da vertere poi leggendo anche le altre cose perché merita veramente tanto merita il vostro tempo e la vostra attenzione e basta è stato bello far tornare le monografie adesso insomma continuiamo ad esserci con il ritmo a cui vi abbiamo abituati prima della pausa dell'ultimo mese e mezzo che insomma è stato un po' pieno di cose quindi ci avrete anche perdonato per la mancanza di monografica ma adesso tornano io vi abbraccio grazie ragazzi noi ci vediamo nei prossimi giorni con le prossime live voi fate i bravi buona serata e alla prossima ciao 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 Grazie.